C'è un ragazzo molto bravo che di Augusta è parlo dell'attività turistica, un uomo che era il cittadino Augusta, si chiama Tiorello, mette il cavo e arriva a Tiorello. Arriva a vedere la televittoria e io dico, per esempio, noi siamo arrivati a dei provvedi per dei campanellisti e quindi abbiamo 5 minuti per persona, per propagande. Lui però era abituato ai comuni tempi dell'attività turistica e mi fa un uomo di 25 minuti. E io ho detto, guarda, tu sei entrato, ma tutta sta roba non è pure condensata in 5 minuti. Mi ha detto, no, è impossibile dire tutto a voi, non posso prenderti e gli ho detto di no. E me lo ricordo tutti i giorni, ci siamo visti quest'estate, ho detto, ma ti ricordo di tutto? E beh, è imponciato, è vero, è vero, è vero, lo riconosco, molto panno.